La Procura di Reggio Calabria, rappresentata dal Procuratore Giovanni Bombardieri, dall'Aggiunto Gerardo Meniani e dal PM Sara Merio e Nunzio De Salvo, ha chiesto il rinvio a giudizio per gli 82 indagati nell'inchiesta Senso Unico, che nei mesi scorsi ha fatto luce sul giro di patenti facili. L'indagine condotta dalla Guardia di Finanza ha portato all'emissione di alcune misure cautelare e ha fatto emergere presunte condotte illecite da parte dei titolari di alcune autoscuole nella provincia di Reggio Calabria, Pistoia e Brescia. Ai domiciliari infatti era finito il titolare di un'autoscuola, Martino Infantino, ritenuto il dominus dell'associazione a derinquere, che tramite la commissione di una serie di reati tra i quali truffa, corruzione e falso, avrebbe agevolato fino a falsarne l'esito, dietro cospiego pagamento, le procedure di concessione di abilitazioni alla guida di veicoli di ogni genere a favore di oltre 50 soggetti, tra cui molti extracomunitari indagati. Oltre ai dipendenti di alcune autoscuole coinvolte nell'inchiesta, secondo INPM nell'organizzazione facevano parte pure un funzionario della motorizzazione civile di Pistoia e due funzionari della motorizzazione di Reggio Calabria.